Facciamo le nostre congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio Comunale e al Vice Presidente del Consiglio Comunale, rispettivamente l'Avvocato Irene Pilato e Pasquale Valenti, che si sono insediati ieri dopo la prematura scomparsa del nostro Presidente del Consiglio, Felice Vaccaro, e iniziano con una grande responsabilità il posto lasciato prematuramente vacante da una persona straordinaria che ha fatto della sua vita e del suo servizio, appunto con la sua vita e il suo servizio a contribuire ad accrescere le condizioni economiche e sociali di questo territorio. Sono convinta che Irene e Pasquale continueranno su questa scia, ossia con uno spirito di servizio, scegliendo sempre per il meglio e per la collettività e per la crescita di questa collettività in una direzione che è sempre più quella della bellezza e in un momento storico dove tanti temi importanti si stanno affrontando, tante conquiste storiche e quindi bisogna essere attenti e rigorosi. Sono emozionata per questo nuovo incarico cui sono stata chiamata a ricoprire. Il ruolo del Presidente del Consiglio è un ruolo che mi onora e mi gratifica profondamente. Io sono sicura di poter lavorare al meglio e mi dedicherò alla carica con impegno, con la massima onestà intellettuale, con scrupolosità ed imparzialità. E questo cercherò di farlo nell'ottica di una democratica dialettica con tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, certa di poter fare con tutti loro un buon lavoro, di poter contare sulla loro fiducia e sul loro costante sostegno. E questo naturalmente con lo sguardo rivolto al bene del Paese e dei nostri concittadini. Ringrazio il Consiglio Comunale per aver esteso di nuovo la fiducia in me, per avermi eletto come Vicepresidente del Consiglio. Che dire, è una carica molto importante. Come da consigliere porterò i progetti avanti da Vicepresidente per la comunità realmondina. Grazie. Grazie.